Grazie a tutti. Detto questo, mentre lo guardavamo fu elevato in alto. I primi mestri cantanti si consegnavano le piatti alla municipalità di Sassari, che poi le riconsegnava patroco, quasi come ringraziamento anche di aver questo dito, di aver tenuto ecco la basilica a Sperlano. Naturalmente questo gesto che noi ripetiamo non vuole significare assolutamente una soddittanza di Porto Torres nel del pleno e cerca di portare nei confronti di Sassari. Ma, semmai vuole sottolineare, per l'amicizia questo legame che sempre c'è stato tra la città di Porto Torres e la città di Sassari. Ed è l'augurio anche per questi legami, per questa collaborazione, per questa unità di impegni continui, sempre per il pleno e comune. E dopo questo gesto, io ringrazio, grazie prima di tutto, al Signore, per la grafica che ci ha fatto vivere in questi giorni. Nella devoluzione di Sassari, di Gavino, di Giammanio, per le ebreze, non sopporti oggi, ma in tutti questi giorni, di testimonianza di diretta. Ed è veramente semplice, ma autentica. Ringrazio voi, Padre Paolo, specialmente per le parole indicate, le parole che ci rivolgono nell'Omelina. Incoraggiamento a cercare sempre di un gruppo, ringrazio voi i contattivi, ringrazio le autorità civili e militari presenti. Come ringrazio tutti coloro che hanno collaborato e collaborano sempre al buon esito di questa festa, da noi tanto sentita. E da noi soprattutto sentiamo di vita nella fede Sassari, ma anche di Giammanio, un ringraziamento particolare, al coro parrondiale e al coro turistico e turistano per l'animazione del campo della festa. Grazie. 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 Grazie.